Cari fratelli e sorelle, una buona domenica. Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù che riporta in vita l'amico Lazzaro, Lazzaro morto da quattro giorni. È curioso perché un tema che attraversa tutto il Vangelo è quello della gente che rimprovera Gesù. Per ben quattro volte nel Vangelo Gesù viene rimproverato. È una gente che fatica a comprendere, a cogliere la strategia di Gesù, il suo modo di fare, non è comprensibile immediatamente. Già le affermazioni di Gesù all'inizio, quando vengono a dargli la notizia che il suo amico Lazzaro sta male, lasciano un po' perplesso. Risponde, questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio. Cosa vuol dire? Cosa vogliono dire queste parole? Quanti discorsi strani, assurdi stiamo sentendo, ascoltando anche noi da parte di tanta gente che considera addirittura questo tempo che stiamo vivendo quasi una sorta di castigo di Dio. Non è certo questo il senso di quello che stiamo vivendo, né tantomeno di queste parole di Gesù nel Vangelo. La malattia, il male, non è mai mandato da Dio, non è mai voluto da Lui. È un Dio piuttosto che ci aiuta ad attraversare il guado del dolore, il guado della sofferenza, che soffre, geme, piange insieme con noi, si commuove insieme con noi e ci aiuta a cogliere un senso, una speranza anche in tutto questo. Ma non è certo Lui che vuole questa malattia, che vuole il male o piuttosto che ci manda questo. È curioso al tempo stesso però che Gesù non corre subito, Gesù attende, Gesù aspetta. E questo ci fa pensare appunto al tema del silenzio di Dio, un Dio che tante volte sembra essere assente, sembra lasciarci soli, sembra dormire di fronte a quelli che sono i nostri bisogni, i bisogni dell'umanità intera. Ma una cosa è certa, siamo nel cuore di Gesù, Lazzaro è nel cuore di Gesù, ognuno di noi è nel cuore di Gesù e questo è il motivo che ci dà speranza, è il motivo che ci dà la forza di andare avanti. E infatti quando arriva sul luogo a Betania, dove è sepolto l'amico Lazzaro, quando incontra la sorella di Lazzaro la sua affermazione è forte, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Siamo al cuore della pagina del Vangelo di oggi, Gesù si presenta come la risurrezione e la vita, Gesù ci apre la strada di una vita che continua anche oltre la morte, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. La vita che vince la morte è un Vangelo in qualche modo che ci anticipa, la Pasqua che ormai è alle porte, è un Vangelo che ci parla di speranza, è un Vangelo che ci parla di vita, ci ricorda che il male, la sofferenza e il dolore non hanno l'ultima parola ma perché Gesù li ha sconfitti o meglio li ha attraversati, ha attraversato il male, ha attraversato la sofferenza, ha attraversato la morte e li ha vinti. Ancora è un Gesù che si commuove, si commuove di fronte alla tomba dell'amico Lazaro, a ricordarci come lui non sia indifferente di fronte a quello che vive l'uomo, a quello che vive l'umanità. È un Gesù profondamente coinvolto nelle vicende dell'umanità che prova fino in fondo questi sentimenti estremamente umani come la sofferenza, la commozione, la tristezza. Ma è un Gesù che non si ferma, che va avanti e invita a togliere la pietra. E qua vediamo come Gesù da solo non può compiere il miracolo, nemmeno questo della risurrezione di Lazaro. Ha bisogno, chiede la collaborazione delle persone che sono lì presenti, perché tolgano la pietra. Ha bisogno della collaborazione delle sorelle, Marta e Maria, che si fidino di lui, ha bisogno della collaborazione della gente, perché tolga la pietra. È un Gesù che ha bisogno anche del nostro contributo. È un Gesù che ha bisogno che anche noi apriamo a lui la porta del nostro cuore per lasciarlo entrare in quei sepolcri che tante volte ci portiamo dentro, in quelle situazioni che non trovano risposta, che sono in qualche modo incancrenite, che puzzano, perché sono non risolte, non sono affrontate, sono lasciate lì, non riusciamo a venirne fuori da soli. Gesù certo vuoi portare vita, vuoi portare aria nuova, vuoi togliere la puzza di morte e riportarci il profumo di una vita nuova, ma ha bisogno di noi, ha bisogno che ognuno tolga la pietra dal proprio cuore, ognuno apra il proprio cuore, ha bisogno del nostro contributo per portarci questa aria nuova, questa aria di vita. E le parole di Gesù poi sono forti. Lazzaro, vieni fuori. Questo è imperativo. Gesù non usa mezze misure. Una volta che la pietra è stata tolta, Gesù si esercita tutta la sua autorità. Lazzaro, vieni fuori. Esci, esci dalla tomba. Non rimanere lì fermo. C'è una vita che continua. C'è una comunità che cammina, che va avanti, che ti aspetta. Lazzaro, vieni fuori. Sentiamo le rivolte anche a ciascuno di noi queste parole e lasciamo che questo Vangelo penetri come una goccia nel nostro cuore. È un Vangelo molto carico, molto denso e ogni parola può dire tante cose alla nostra vita, può parlare alla nostra esistenza. Lasciamo che il Signore attraverso il suo spirito sussurri con la sua delicatezza parole di vita, parole di speranza, perché questo Vangelo diventi veramente speranza nuova, speranza di vita in questo tempo in cui siamo sovraccaricati da notizie che ci parlano di sofferenza, di tristezza, di dolore, di morte. Che questa pagina di Vangelo diventi balsamo, che profuma, che dà sollievo alla nostra esistenza, all'esistenza di un'umanità ferita per portarci davvero alla Pasqua, a questa vita nuova che Gesù ci dona. Buona domenica a tutti. Grazie a tutti.